Ciao a tutti i farmer, benvenuti, spero tutto bene. Allora oggi vi spiegherò come le nostre fragole in, non so, 3-4 mesi sono cresciute. Allora, adesso ne abbiamo già raccolto quasi tutte le fragole, però come vedete mi stanno rinascendo ancora. E questa è la loro riproduzione che si chiama stolone, è in pratica una sorta di ramo orizzontale da cui genera le radici che dopo daranno vita a una nuova pianta. E mentre genera le radici, la sua mamma, cioè la mamma pianta, trasporta il nutrimento alla piccola piantina che si deve sviluppare e a tutte le altre. Solo che noi le abbiamo fatte su un ripiano rialzato dal terreno e quindi di qua dobbiamo vedere se qua nascono, dovremo tagliarli perché non arrivano in terra e non cercano cibo. Oppure se riescono ad arrivare fino a terra, vediamo cosa succede.